Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vorrei fare anche in questo caso un disclaimer iniziale, questo è un caso delicato, quindi di nuovo vi dico, se non ve la sentite, se per voi è troppo, se sapete che per voi è troppo, se poi non riuscite a dormire, se poi rimanete con l'ansia, non guardate questo video, guardatene altri, io non mi offendo, ok? Non state mai male per aver visto un mio video, vi prego, mi sentirei troppo in colpa, se sentite che per voi è troppo, fermatevi, anche al secondo 5, se vi rendete conto che è troppo, fermatevi, davvero, fermatevi, io non mi offendo. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e se vi va potete anche comprare qualcosa dal mio shop, link in descrizione. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso molto molto delicato, vi ho già parlato degli ex fidanzati di Pico e proprio sotto quel video qualcuna di voi mi ha chiesto di parlare di Jason Pruscino. I veri colpevoli di questa storia, possiamo ammetterlo fin dall'inizio, sono i suoi genitori, Danny Pruscino e Katia Reginella. E la loro, di certo, è una storia difficile e tormentata. Prima quindi di parlare di Jason Pruscino, un bambino di appena due mesi, è necessario fare un passo indietro per capire la situazione e l'ambiente in cui si consuma questa tragedia. Siamo a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. I protagonisti di questo caso sono Katia Reginella e Danny Pruscino. I due si mettono insieme da giovanissimi, in quanto Katia ha una situazione familiare davvero disastrosa. La ragazza nasce a Giulianova, nella provincia di Teramo, in Abruzzo. Sua madre e suo padre bevono in abbondanza, la trattano male, le mettono le mani addosso. Vittorio, il padre di Katia, è un gran lavoratore, ma è anche un uomo violento. Picchia moglie e figli e d'altronde anche i fratelli di Katia sono violenti con lei. Katia sostiene anche di aver subito violenza dai suoi due fratelli e da suo padre. Infatti oggi è una ragazza con problemi psicologici e tutti, ahimè, al tempo le hanno voltato le spalle. Alle elementari Katia è una bambina chiusa, non amici. Sta sempre da sola e non riesce a socializzare. Si trasferisce ad Albadriatica e successivamente a Corropoli, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Infine si sposta definitivamente, trasferendosi a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Katia, all'età di 15 anni, conosce Danny Pruscino. Iniziano ad uscire, ma la sua famiglia non accetta questa relazione. Katia viene picchiata, quindi, anche in questo caso, di continuo. E quando conosce Danny, decide di confidargli delle violenze subite da suo padre e dai suoi fratelli. E non sto parlando solo delle botte. A questo punto, Danny e Katia decidono di recarsi dai carabinieri per sporgere una denuncia a carico di suo padre e dei suoi fratelli. Di conseguenza viene mandata in un istituto dai carabinieri. Al processo questa struttura viene chiamata istituto, collegio correttivo, collegio, casa famiglia, comunità. Quindi non si capisce bene esattamente cosa sia questo istituto. Almeno io non sono riuscita a capirlo. Anche da questo istituto, però, Katia scappa spesso. E il fine è sempre quello di incontrare Danny. Quest'ultimo, d'altro canto, fa di tutto per vederla, perché si è innamorato. Ecco perché Danny va a recuperare Katia all'istituto. Il fine è quello di portarla a vivere a casa sua. Katia non può tornare a casa sua, prima di tutto perché Vittorio, suo padre, è venuto a mancare. E quindi ora sono i suoi fratelli che non la vogliono più in casa. Quelli che la picchiavano e le facevano violenza. Sì, proprio loro. La odiano, non la vogliono più vedere, neanche con il lanternino. La madre di Katia, a quanto pare, può andare a trovare sua figlia, ma di nascosto. Perché i suoi figli, se l'avessero beccata, le avrebbero messo le mani addosso. I suoi figli. Inizialmente Danny e Katia si stabiliscono in un appartamento o sito nel centro storico di Ascoli Piceno, condividendo l'appartamento con tre colleghi di lavoro di Danny. Ovviamente questa è una soluzione temporanea. Finché non trovano un'altra casa, stanno lì, almeno hanno un letto in cui dormire e un tetto sopra la testa. Però, qui mi sorge un dubbio. Katia è ancora minorenne. Quindi mi sfugge il come se ne sia andata definitivamente dalla casa famiglia o dall'istituto. Danny si è preso la responsabilità di prendersi cura di Katia, essendo lui maggiorenne. Io questa parte l'ho compresa poco e, a mio parere, è come entrare in un girone infernale. Non voglio giustificare la carnifice, se è chiaro. Katia è colpevole sul perché e sul come ci arriveremo, ma obiettivamente ha vissuto un'esistenza d'inferno, almeno fino ai suoi 16 anni. In ogni caso, mentre Danny è in quella casa con i suoi colleghi per stare con Katia, va a lavorare, quindi ha dei soldi per mantenere la sua parte d'affitto, fa la spesa. Mentre Katia, essendo minorenne, chiaramente rimane a casa. E a quanto dicono al processo, la ragazza tradisce Danny con tutti i colleghi di lavoro presenti in quell'appartamento. Danny però è innamorato. Katia gli promette di non farlo più e Danny, quindi, la perdona sempre. Arriva il 7 febbraio del 2006 e la coppia mette al mondo il loro primo figlio, Valerio Pruscino. In data 14 febbraio viene ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale di Ascoli Piceno, per sofferte lesioni al cranio, tali da comportare pericolo di vita. Ovviamente gli assistenti sociali intervengono in modo tempestivo, prendono il piccolo Valerio e lo danno in adozione. Oggi Valerio è invalido. Dopo qualche tempo i due si trasferiscono e vanno ad abitare in una casa tutta loro a Piane di Morro. Nel 2007, quindi un anno dopo, nasce Michelle e gli assistenti sociali, giustamente, si attivano immediatamente, in quanto è necessario seguire Katia, vista la condizione in cui è arrivato in ospedale il primo figlio, a soli sette giorni dalla nascita. In questo caso non è possibile abbassare la guardia. Il giudice, dunque, accoglie la richiesta di Giuseppina Nori, l'assistente sociale, e prescrive l'assistenza domiciliare educativa. L'educatrice rimane a casa di Danny e Katia per due giorni. Il secondo giorno chiama immediatamente Giuseppina dicendole che nota già delle echimosi sulla bambina. L'assistente sociale a cui si è rivolta l'educatrice contatta quindi un pediatra, chiedendo urgentemente una visita domiciliare. La bambina non è in buone condizioni, quindi viene mandata all'ospedale Salesi di Ancona. Quando Giuseppina Nori, l'assistente sociale, si reca in ospedale, i medici parlano di sindrome dello shaking baby, in italiano sindrome del bambino scosso. E che cos'è questa sindrome? È una grave forma di maltrattamento fisico ai danni di bambini generalmente sotto i due anni di vita. Consiste nello scuotere in modo violento il bambino o la bambina come reazione al suo pianto inesorabile. Questo scuotimento del bimbo può provocare un trauma cerebrale con le conseguenti complicanze neurologiche. L'assistente sociale, avendo preso la notizia, avvise immediatamente il giudice che dispone l'allontanamento di Michelle in un posto segreto. Oggi Michelle soffre di disturbi alla vista, se non erro e cieca da un occhio, e soffre di disturbi del linguaggio. L'assistente sociale Giuseppina Nori, in aula, durante il processo, sostiene che con Katia riusciva a parlare. La ragazza la ascoltava, le dava retta. Ma con Danny, invece, era tutta un'altra storia. Il ragazzo, infatti, in un attacco d'ira, aveva afferrato un passeggino per poi scagliarlo contro l'assistente sociale. Sia Katia che Danny minacciavano l'assistente sociale con frasi tipo Io ti ammazzo di botte, ti faccio perdere il posto, te la faccio pagare anche per Valerio. Giuseppina aveva denunciato questa aggressione in via cautelativa per poi uscire dalla vita di Danny e Katia. Era il 2008. Nonostante questi fatti parecchio gravi che, a mio parere, rendono Danny e Katia due persone pericolose non in grado di crescere un figlio, nel 2011 la coppia mette al mondo un altro figlio, Jason. Jason nasce il 9 maggio del 2011 presso l'ospedale di Teramo e Danny Pruscino in tribunale sostiene che sua moglie neanche l'aveva avvisato del suo stato interessante. Se ne era reso conto lui da solo, in quanto a Katia non veniva il ciclo da circa tre mesi. Katia, della sua gravidanza, non informa nessuno. Nessuno sa assolutamente nulla fino a quando non notano il pancione. Quando Katia partorisce, Danny è con lei, poi torna a casa perché il giorno dopo deve andare a lavorare. Il giorno dopo Katia chiama Danny dicendogli guarda che i dottori hanno riscontrato il gruppo sanguigno AB. Danny a questo punto si fa delle domande perché il suo gruppo sanguigno è zero positivo, mentre quello di Katia è zero negativo. Quindi Danny chiede a Katia di far ripetere ai dottori l'esame. Magari ha sentito male lei, magari i dottori si sono sbagliati, tutto è possibile. Dopo qualche ora Katia ricontatta Danny dicendogli questa volta che hanno riscontrato il gruppo sanguigno AB positivo. Danny pensa che Katia stia mentendo solo per il gusto di fargli una cattiveria. Ma la ragazza a questo punto gli dice No, ma sai, questo gruppo sanguigno è possibile se è uscito fuori perché Jason non è tuo figlio, ma dell'ultimo ragazzo con cui ti ho tradito. Danny, ascoltando Katia, non crede ad una sua sola parola. Quello per lui è suo figlio ed è così che lo tratta. Almeno questo è ciò che asserisce lui. Tengo a sottolineare che queste sono sue affermazioni fatte durante il processo a suo carico. Jason in effetti non è figlio di Danny, ma l'imputato sostiene che fino all'ultimo ha creduto fosse suo. Secondo l'accusa invece Danny sapeva benissimo di non essere il padre, mente per allontanare da sé ogni movente, mentre per la difesa l'aver creduto fino all'ultimo che il figlio fosse suo dimostra solo il buon carattere e l'ingenuità del loro assistito. Ma chi è il ragazzo con cui Katia ha tradito Danny? Ebbene, io il suo nome per intero non l'ho trovato, ma ho trovato le iniziali del suo nome e del suo cognome, G.M. Ebbene, i due si incontrano alla fermata di un pullman ed è Katia ad attaccare il bottone con il ragazzo. Gli si avvicina e gli chiede dove stia andando. G.M. si presenta e le dice che deve andare a Maltignano, in quanto è lì che abita e gli tocca camminare perché nessuno può andarlo a prendere con la macchina. Katia si offre di accompagnare G.M. a piedi fino a Maltignano. Il ragazzo accetta e quando arrivano l'accoglie in casa e le offre un caffetto. In quel momento a casa di G.M. c'è anche sua madre. E che succede? Katia e G.M. trascorrono un po' di tempo insieme. A quanto dice lui, quel pomeriggio l'hanno trascorso guardando la televisione in camera sua. Dopo questo primo incontro però tra i due nasce una relazione e ovviamente Katia non dice nulla a G.M. della sua vita. Non gli dice che sta con un altro ragazzo, non gli dice che già ha avuto due figli da questo ragazzo. Katia racconta a G.M. che abita da sola a Piane di Morro, una frazione del comune di Folignano. I due, dunque, si continuano a frequentare per circa un mese. Questo è un periodo di tempo parecchio limitato. E quindi la domanda sorge spontanea. Perché la relazione tra Katia e G.M. si è conclusa? Beh, perché G.M. grazie a Dio non ha le fette di mortazza sopra gli occhi. E ben presto scopre che in realtà Katia sta con un altro uomo da anni. Ha preso la notizia? Il ragazzo prende le distanze da Katia. Katia rivela a G.M. di aver avuto due bambini con il suo compagno. Ma entrambi sono stati portati via dagli assistenti sociali. G.M. a questo punto si allontana ancora di più chiudendo la relazione. I due però, come già vi ho detto, sono stati insieme un mese. In questo mese hanno avuto dei rapporti intimi. G.M. in tribunale sostiene di aver sempre usato la protezione. Ma in realtà mente. In un'occasione soltanto, lui e Katia non hanno usato precauzioni. Ma sono stati molto attenti. Danny Pruscino a questo punto affronta Katia e le dice Senti, ma se tu sei così sicura che il bambino sia di questo tuo ex, perché non l'hai avvisato? Perché non l'hai chiamato? Katia risponde Non l'ho chiamato perché non so che fare. Che gli dico? Danny la guarda e risponde Beh, gli dici la verità. Prendi quel telefono e chiamalo davanti a me. In viva voce. Quindi Katia contatta G.M. dicendogli Ho avuto un bambino. E credo sia tuo. A G.M. prima prende un coccolone, poi ribatte Katia, non è possibile. Prende, poiché abbiamo usato precauzioni. Quello non può essere mio figlio. Danny a questo punto si convince ancora di più che Jason sia suo figlio. Ma secondo ciò che dice al processo, Katia come si comportava con Jason? Era una madre amorevole? Paziente? Si prendeva cura di lui? Danny sostiene che durante il lavoro chiamava spesso Katia. E spesso sentiva il bambino piangere. Di conseguenza si preoccupava, chiedeva a Katia se gli avesse dato da mangiare. Insomma, Danny sostiene che la seguiva e la teneva d'occhio anche da lontano, per telefono, per darle un appoggio in più. A volte aggiunge che la urtava perché Katia aveva la fissa di uscire sempre e voleva uscire senza Jason. Danny non accettava mai questa situazione con gioia ma alla fine neanche si opponeva. Pensava che Katia avesse bisogno di staccare un attimo il cervello, di distrarsi. D'altro canto mica è facile crescere un bambino. Ogni volta che Katia doveva allattare, Danny le stava molto vicino perché si irritava facilmente. In qualche modo respingeva il bambino mentre lo allattava. E il bambino si rendeva conto che in effetti Katia non lo allattava con tutta questa gioia. Di conseguenza dopo un po' si stufava, non voleva più mangiare. Quindi ogni santa volta Danny alla fine prendeva Jason e lo allattava lui con il biberon, con il latte artificiale. Il pediatra di Jason ha processo testimonia che il bambino nato il 9 di maggio era andato da lui per la prima volta il 27 maggio. Aveva 18 giorni ed era accompagnato da sua madre. Durante questa visita il pediatra aveva fatto dei controlli di rito, quelli che vengono definiti bilanci di salute. Le condizioni di Jason erano ottime, non c'erano segni di incuria, era cresciuto. Il pediatra successivamente aveva rivisto Jason il 10 giugno. Il bambino stava benissimo ed era cresciuto di 600 grammi in 13 giorni. Durante questo mese di giugno, il 20 per la precisione, Danny e Katia vanno in comune a sposarsi. Chiedono alla loro padrona di casa e vicina se per caso può tenere Jason per un'oretta. Emerge così che la coppia è così poco assistita nelle cure di Jason da dover ricorrere per andare a sposarsi all'aiuto della vicina. La circostanza però fornisce una data importante per il processo. Jason fino al 20 giugno stava bene. La cerimonia e l'organizzazione di questo matrimonio, a mio parere, aiuta ad inquadrare la condizione di Danny e Katia. Infatti i testimoni di nozze della coppia sono due colleghi di Danny, anche qui non due suoi amici ma due suoi colleghi. Tant'è vero che questi colleghi chiedono a Danny, ma non hai qualcun altro più vicino a cui chiedere? Danny risponde, voi, voi siete le uniche persone che ho, siete le uniche persone a cui posso chiedere. Due colleghi di Danny a questo punto accettano, vanno al matrimonio, ma non festeggiano neanche alla fine, non fanno neanche mezzo brindisi, passano 5 minuti davanti al comune e poi ognuno va per la sua strada. Giovedì 23 giugno Katia si reca nel negozio di una parrucchiera, la quale testimonia ovviamente al processo. Sostiene che Katia è andata solo una volta con Jason al suo negozio, quindi ha potuto vedere quel bambino solo quel giorno. La parrucchiera dice che quel bambino era bellissimo, l'aveva anche preso in braccio, gli aveva fatto le coccole e non aveva assolutamente nessun segno di percosse. Però è proprio dopo il 23 giugno che di Jason si perdono le tracce. Il 6 luglio gli assistenti sociali, dopo diversi tentativi falliti di visitare il bambino, denunciano la situazione al tribunale dei minori. E il 13 luglio la procura di Ascoli incarica i carabinieri di recarsi a casa di Katia e di Danny. I carabinieri vanno a casa della coppia per un colloquio finalizzato a conoscere la posizione di Jason, di cui si è persa traccia. I carabinieri suonano al campanello, i due coniugi scendono ed escono di casa. Non vogliono far entrare in casa loro nessuno, quindi il colloquio avviene davanti casa loro. Inizialmente pare che Katia e Danny vogliano collaborare, e infatti i carabinieri si limitano a lasciare loro il numero della caserma. Katia e Danny promettono di chiamare il giorno dopo per comunicare la posizione di Jason, cosa che non avviene. Dopo qualche giorno viene eseguita dai carabinieri una perquisizione domiciliare, senza risultati. Jason non è a casa con Katia e Danny. Di Jason non c'è alcuna traccia, quindi gli inquirenti allarmati mettono sotto controllo i telefoni di tutti i protagonisti di questa vicenda. È così che si scopre che Katia Reginella il 20 luglio ha intenzione di recarsi in Svizzera. Le autorità interpretano questa informazione come una fuga, disavvalorata dal fatto che Katia progetta di non fare più rientro, e di appoggiarsi prima della partenza presso i nonni di Danny. Katia quindi il 20 luglio si reca dai nonni di Danny. Dani sale le scale, viene accolta in casa. Dunque, la nonna di Danny, la signora chiede a Katia, ma tu che ci fai ora qui? Katia le risponde, guarda io sto per poco, poi me ne vado, sto qui fino a mezzanotte, poi una macchina mi verrà a prendere per raggiungere Jason, che è già in Svizzera. La nonna di Danny a questo punto invita Katia a sedersi in cucina per mangiare qualcosa. Katia le risponde, sì dai, mangi un più qualcosa e nel frattempo ti racconto tutto. Ebbene, Katia non fa in tempo a raccontare un bel niente. I carabinieri l'arrestano e poco dopo arrestano anche Danny Pruscino. Una volta arrestato, Danny Pruscino ammette che Jason non c'è più. La sua versione dei fatti nel tempo cambia, ma un'informazione rimane salda. Il piccolo è venuto a mancare per un incidente domestico. A questo punto non posso fare a meno di leggervi una lettera datata a 20 aprile 2012. Questa lettera la scrive Danny per Katia. Ciao amore mio, cerca di resistere e non fare niente. Adesso parlo con il mio avvocato perché in questi casi ci vuole calma, molta calma e parecchia intelligenza. Loro pensano che stiamo facendo i furbi, invece non è vero. Noi vogliamo far capire che non l'abbiamo fatto apposta di nascondere Jason. Quando è accaduto abbiamo visto la bozza dietro alla testa. Abbiamo pensato, dopo che se ne era andato, a Valerio, visto che lui c'era nato con l'ematoma dentro la testa. Ci avevano incolpato che era caduto, ma lì si era salvato. Non capisco la frase. Valerio, cioè il loro primo figlio, è già nato con un ematoma nella testa. No, no, Valerio è caduto. Non si formano ematomi nella testa così a caso, da soli. Non funziona così, ma procediamo. Nel caso qui avevamo paura che potessero pensare che l'avessimo fatto apposta. Ma per questo noi non ci dobbiamo preoccupare, perché era stato un incidente. Fanno vedere sempre, su paperissima, i bambini che cadono, sbattono la testa, ci ridono sopra e a noi ci stanno facendo un dramma. Quando ho letto questa frase mi sono venuti i brividi. Stavi coccolando al bambino e non ti sei accorta del mobiletto del corridoio e sei caduta all'indietro. Allora, cosa vogliono da noi? Succede agli altri e ci ridono sopra e a noi, che siamo sfortunati che fanno, ci mettono in galera. Per l'ospedale psichiatrico giudiziario non ti preoccupare che non ci vai a finire. Che fa una persona a cui cade il bimbo? Va a finire all'ospedale psichiatrico giudiziario? Se continui così, Katia, sì però, ci finisci. Però, se ammetti che è stato un incidente domestico, che poi è la verità, perché all'inizio abbiamo ammesso che era un incidente e loro non ci volevano credere. Loro pensano male. Poi abbiamo cambiato versione perché avevamo paura, non sapevamo cosa dire. Come hai detto tu, dobbiamo sopravvivere nel carcere perché i detenuti pensavano che l'avessimo fatto apposta. Infatti qui mi volevano menare, poi invece ho conosciuto questo mio amico che mi sta proteggendo tranquilla. Poi qui dentro sono riuscito a cambiare grazie a te, perché ho confessato il mio passato e mi ha fatto capire che tu sei più importante di qualsiasi altra cosa. Quindi sei tranquilla e pensa a me quando e quanto vuoi, vedrai che ti passa. Per te ci penso io per una volta, fai quello che ti dico. T'ho fatto sempre fare, però stavolta fidati di me. Non dobbiamo avere paura di loro, dobbiamo avere paura solo della morte. Non abbiamo fatto niente di male. E' loro che stanno facendo del male a noi. Quindi con l'avvocato ci parlo io. Tu non fare niente, almeno risolviamo il problema una volta per tutte. Ok? Il processo carico di Katia e Danny inizia nel settembre del 2012. E già avevano iniziato ad accusarsi a vicenda da tempo. Ma torniamo a questo punto al processo. Danny finalmente spiega la sua versione dei fatti e dice La scomparsa di mio figlio è avvenuta l'8 luglio. E' venuto a mancare a causa di un incidente domestico. L'orario non me lo ricordo di preciso, ma ero tornato da lavoro. Io facevo il turno pomeridiano. Ho staccato da lavoro per le 22. Quando è avvenuto il fatto, io stavo in salotto, mentre Katia era in corridoio con il bambino in braccio. Ho sentito una botta. Sono corso in corridoio e ho visto mia moglie e mio figlio a terra. Il bimbo era esanime. Quando l'ho preso ho notato che aveva preso una botta in testa. E da quel momento mi è preso il panico. Sono onesto, non sapevo cosa fare. Non sapevo cosa pensare. Mi ero spaventato. Mi era crollato il mondo addosso. Qual è il punto? È che né Katia né Danny chiamano il 118. Non prestano soccorso a Jason. Non provano a salvarlo. La domanda che sorge spontanea a questo punto è Che ne hanno fatto del bambino? Dove l'hanno messo? Danny continua. Dopo non avevamo ancora deciso cosa farne. Perché non sapevamo cosa dire, cosa fare, cosa raccontare. Non sapevamo niente. Quindi abbiamo deciso insieme di metterlo all'interno di una busta arancione della Chicco E di andare fuori. Di uscire per cercare di capire cosa fare. Il PM insiste. Mi scusi, ma a me ancora non è chiaro un passaggio. Sente una botta. Vede sua moglie e suo figlio a terra. E non gli viene in mente di chiamare il 118? Un'ambulanza? Danny risponde. No, non ha capito. Io sono andato nel panico più totale. Il cervello a me non funzionava più. Che dovevo fare? Io mi sono spaventato. La PM incalza. Lei è nel panico più totale, dico bene? È nel panico più totale, però insieme a Katia mettete il corpicino della creatura in una busta di plastica. Giusto? Danny risponde. Sì, la PM insiste. E poi? Cosa decidete di fare? Danny risponde. Usciamo fuori. Stendiamo in macchina per incamminarci verso l'ospedale di Ascoli. Poi, dopo, lei, ossia Katia, comunque continuava. Continuava sempre a dirmi di non sapere cosa dire all'ospedale. Mi diceva, come facciamo? Questi ci fanno passare i guai. E comunque non ci crederanno che è stato un incidente domestico, visto i precedenti. Inoltre, mi sentivo anche io coinvolto, perché ero presente anche io nell'appartamento. Dopo abbiamo vagato un po' per Ascoli Piceno. Poi siamo andati verso Porta Cartara, fino ad arrivare a Castel Trosino. Katia aveva deciso di occultare il piccolo. Io però non me la sentivo di farlo, perché non potevo farlo. Non erano le mie intenzioni, quindi le avevo detto, pensaci tu. Lei però aveva risposto, no, no, io c'ho paura, perché qui è pericoloso, è buio. Quindi, alla fine, me l'ha fatto fare a me. Anche questo ho fatto. Quindi che faccio? Esco dalla macchina, vado al portapagalli della macchina, prendo il bambino e scendo verso il dirupo. Purtroppo, però, il bambino mi è caduto. Perché quello, insomma, era un dirupo e molto buio, pericoloso. Io però lo volevo seppellire in qualche modo. Non l'ho più trovato, quindi sono risalito in macchina e siamo tornati a casa. Questa è la versione di Danny. Aggiunge anche che, dopo il fatto, Katia voleva liberarsi di tutte le cose di Jason. Voleva liberarsi del passeggino, dei suoi vestitini, del suo biberon. La verità, a mio avviso, è una... ed è anche molto brutta. I genitori hanno voluto cancellare ogni traccia di Jason. Tutti gli oggetti riferiti a quel bambino sono stati distrutti, gettati, eliminati. Il giorno successivo all'occultamento, Katia e Danny ritornano sul posto. A quanto dice Danny, perché avevano dei rimorsi di coscienza. Ma non sono riusciti a trovare il corpo del piccolo Jason. Il corpo di quella creatura non si trova, è sparito e tuttora non si sa dove possa essere. A quanto pare ci sono delle accuse di alcune falle nelle indagini, scaturite dalla testimonianza in aula di chi ha effettuato le ricerche del piccolo. In particolare un consulente di una società privata, ingaggiata dagli investigatori, che, attraverso un cane specializzato, avrebbe cercato nei luoghi indicati dagli inquirenti a Castel Trosino. Secondo le difese dei due imputati, le ricerche sarebbero state ridotte perché effettuate in un raggio di appena 50 metri, all'interno della boscaglia dove sarebbe rotolato il piccolino. Durante le ricerche trovano un ossicino di colore chiaro consumato da un lato. Quell'ossicino però non è di natura umana, bensì di natura animale. Il corpicino del piccolo non c'è e quel corpicino avrebbe potuto dare davvero tante informazioni. Ma abbiamo delle sicurezze. Jason sicuramente non c'è più. L'ha ammesso sua madre, Katia, che al processo si abbassa della facoltà di non rispondere. Ma, interrogata precedentemente dal PM, ha dato numerose versioni. E la versione che ora andremo a trattare è la seguente. Jason, non è venuto a mancare per un incidente domestico? No. È stato Danny Pruscino ad aver colpito Jason. Prima di arrivare a ciò però vorrei parlare con voi del carattere di Danny. Guardandolo in tribunale sembra un ragazzo normale. Ma qual era il suo carattere? Danny per caso era violento? A questo punto devo leggervi un'altra parte di lettera che Danny ha scritto a Katia. Volevo morire dopo che ti picchiavo. Io ti alzavo le mani perché mi tradivi. Mi facevi soffrire. Cosa dovevo fare? Non mi parlavi, mi tradivi e basta. Io ho paura di tutto. Non ho alzato le mani a nessuno tranne a mio padre che mi ha fatto diventare così e mi ha fatto alzare le mani a te, la mia principessina. Emerge inoltre un dato a carico di Danny durante il processo e riguarda per l'appunto la sua personalità. I compagni di cella di Danny infatti raccontano che hanno avuto modo di parlare con lui quando gli hanno chiesto il motivo per cui si trovasse lì in carcere. Danny racconta tutti Kelly per un incidente domestico in cui il suo bambino era caduto dalle braccia di sua madre. Il giorno seguente Danny va dai compagni di cella e fa un'altra domanda, una domanda un po' particolare, un po' strana perché chiede loro a quanto ammonti una condanna per violenza intima. I suoi compagni di cella lo guardano e gli dicono ma scusami tu non sei qui per omicidio? Danny risponde ho paura anche di essere accusato da mia moglie per una violenza perché io con i miei fratelli Carlo e Marco abbiamo fatto violenza su di lei anni fa. Ora ciò che so io è che l'unico ad essere stato condannato per questo reato è Danny Pruscino. A sei anni Carlo addirittura risulta essere omosessuale, di conseguenza viene assolto, mentre Marco, il fratello minore di Danny, è stato giudicato dal Tribunale dei Minori di Ancona che lo ha assolto. Katia, per la quale è stato stabilito un risarcimento di 20.000 euro, le aveva accusate di essere stata costretta in più occasioni nel 2006 a sottostare a violenze intime. Io vi ho spiegato come si è conclusa la storia processuale di questo fatto, che emerge proprio durante il processo per il piccolo Jason. Infatti sia la madre che la sorella di Danny testimoniano dicendo che Katia era una ragazza facile, andava con tutti, aveva tradito suo fratello innumerevoli volte. Ma nonostante ciò Danny non l'aveva mai lasciata, al limite le aveva dato qualche schiaffo per richiamarla. Vi sto riportando le parole esatte del processo, uno schiaffo o due per richiamarla, per riportarla in carreggiata. Ora, io non so esattamente come Katia si comportasse perché il processo è muta come un pesce e non ho mai avuto l'occasione di osservarla, né di sentirla ribattere a queste accuse. Alzo le mani e vi riporto i fatti. Peraltro questa vicenda della violenza emerge a seguito dell'incarcerazione di Danny e Katia. Il rapporto tra i due era ormai inclinato. Questo è il contesto in cui è avvenuta la scomparsa di Jason. Ma nel carcere in cui era stato rinchiuso, Danny avrebbe fatto ulteriori confidenze compromettenti a dei suoi compagni di cello. Gli stessi della violenza intima per intenderci. I compagni di cella di Danny sostengono che dall'incidente domestico la sua versione è totalmente cambiata. Lui si trovava in salotto con Jason che piangeva sconsolato. Danny era lì e lo stava cullando. Poi, però, di colpo, non sapeva neanche lui che cosa gli fosse preso. Aveva preso quel bambino e l'aveva scaraventato sul divano. Il piccolo era dunque caduto sul telaio del divano. Katia, sentendo il baccano, era corsa in salotto. E, chiaramente, vedendo la scena, era scoppiata a piangere. Danny aveva notato che il bambino non stava bene, ansimava. Quindi aveva ordinato a Katia di spogliarlo e poi lo avevano infilato in una busta. Quindi, quel bambino era ancora vivo. Stava ansimando. Era esanime ma era ancora vivo, secondo questa versione. La versione dei fatti per il resto non cambia. A quel punto lui e Katia erano usciti recandosi a Castel Trosino. Danny aveva cercato di scendere da una specie di scarpata per seppellire il piccolo che gli era scivolato dalle mani. Danny non riusciva più a trovarlo. Di conseguenza era risalito, era rientrato in macchina ed era ripartito con sua moglie per tornare a casa. Ma non è finita qui. Danny diceva anche che quel corpo non sarebbe mai stato ritrovato. Perché? L'avrebbero mangiato i cinghiali. Ma perché Danny ha avuto questo scatto d'ira? A quanto pare è proprio a causa della paternità di Jason. Danny è scattato perché guardando Jason ha pensato che non solo quel bambino non era suo, ma era anche frutto di un tradimento. Qui però c'è un problema essenziale. Queste sono tutte chiacchiere. Non ci sono prove fattuali, non ci sono prove scientifiche, non c'è niente di niente. Ci sono solo parole. E infatti Danny a processo dice che queste confidenze ai suoi compagni di cella non le ha mai fatte. A questo punto viene chiesta all'imputata se vuole sottoporsi all'esame. Ma Katia anche in questo caso si rifiuta di rispondere. Il punto è che prima del processo Katia ha sostenuto numerose versioni. Prima ha sostenuto se sia trattato di un incidente domestico. Il bambino insomma le era scivolato dalle mani. Poi che il bambino era stato fatto sparire da Danny. E infine che lei non aveva assistito alla dipartita del figlio. Perché si trovava in un'altra stanza. Quindi non poteva dire se si era trattato di un incidente o di un omicidio. A questo punto vengono ascoltate le compagne di cella di Katia. Le quali sostengono che Katia loro ha sempre detto che il piccolo è stato colpito da Danny. In questo caso l'uomo ha sbattuto Jason per due volte sul divano. O per terra. Non se lo ricordano. Katia Reginella è stata sottoposta a diverse perizie psichiatriche. Dalle quali è emerso che si tratta di una giovane con un consistente deficit mentale. Ma non sufficiente da ritenerla incapace di intendere e di volere. Katia è una persona fragile. Immatura dal punto di vista psicologico. Il PM chiede per Danny l'ergastolo e isolamento diurno per sei mesi. Per Katia chiede l'ergastolo e l'isolamento diurno per due mesi. Danny in effetti viene condannato all'ergastolo con isolamento diurno di sei mesi. Mentre Katia viene condannata a 25 anni di reclusione. La cassazione per Katia ha ridotto la sua pena a 18 anni. Per Danny invece è stato confermato l'ergastolo. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video. Secondo me questo video è davvero molto 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 delicato. E io ho evitato di inserire le famiglie. Perché le famiglie di questi due ragazzi a processo si vedono. Parlano. E c'è il padre di Danny che dice Io non so neanche quando è nato Jason. Ma io che ne so. Boh non ho chiesto niente. Non era compito mio chiedere. Mico mio. Eri suo nonno. Eri suo nonno. Non era una persona sconosciuta. Direi che fa abbastanza schifo. Scusate per questo spogo. Ma proprio ce l'avevo qua. Ce l'avevo qua. Non vi ho inserito nessuna di queste informazioni nel video. Se siete interessati andate a recuperare il processo. Detto questo ragazzi. Io spero che questo video. Molto molto triste. Possa essere stato di vostro interesse. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando. Fate i bravi. E continuate a mangiare le verdure. Che continuano a far bene. Che continuano a far bene.